buonasera a tutti e bentornati sugli schermi di casa del sole tv è il momento questo di sostenere il nostro canale come state facendo e lo potete fare sia tra facendo un abbonamento ce ne sono di vari di varie forme e sia con un contributo volontario una tantum e continuando a partecipare insieme a noi alla caccia alla verità che abbiamo iniziato insieme potete sostenerci facilmente dalla nostra pagina web dove trovate tutti i dati www.casadelsore.tv barra sostienici e scegliere quello che preferite e continuare a restare insieme a noi siamo qui oggi a parlare di questioni attuali e dell'uso del linguaggio nell'informazione sia nell'informazione mainstream che nell'informazione cosiddetta libera e lo facciamo con lo scrittore e filosofo e gradito ospite michele putrino buonasera michele buonasera a te jeff buonasera a tutti michele stiamo andando di nuovo a osservare un'altra nuova tifoseria che è quella che riguarda il clima poi c'è quella che riguarda anche il gender fluid e tutte le varie narrative che il mainstream offre o che l'elite offre però è anche un po strano che anche chi si occupa di libera informazione occupi tutto il tempo buona parte del tempo a commentare ciò di cui parla il mainstream forse le questioni potrebbero essere altre e soprattutto a farlo con un linguaggio che non è né giornalistico e forse neanche tanto civile cioè con una propaganda che è opposta a quella del mainstream ma è comunque una propaganda perché non esiste non è vero che è più caldo del solito siccome loro costruiscano una narrativa sulla emergenza climatica allora bisogna dire che non esiste nessuna emergenza climatica e che addirittura non fa così caldo tutto sommato fa caldo come le altre volte e cosa ne pensi di entrambe le cose sia del linguaggio che viene usato che della questione climatica beh jeff a me sembra evidente che stiamo entrando in sostanza in una nuova specie di medioevo cioè stiamo ogni giorno abbandonando sempre di più la ragione e i ragionamenti razionali il vedere il cercare di vedere le cose per come sono realmente per cadere anzi per sprofondare nel fanatismo e nell'ideologia e nel e nella tifoseria più becera tra l'altro quindi io ragiono così devo pensarla così l'altro ragione il contrario ed è il cattivo il nemico e così via tanto che ormai siamo arrivati a livelli in cui le persone ragionano se non sei con mese contro di me se non la pensi come me allora la pensi al contrario di me e così via ora perché sta accadendo questo beh a mio parere per un motivo ben preciso e cioè tutto dovuto ai social ormai si vive sui social chi ha un'azienda di comunicazione diciamo in questo modo vive grazie alle visualizzazioni ai punteggi che vengono dati tra virgolette quindi mi piace le condivisioni e così via sul web e il web i social premiano non certo chi si metta a fare un ragionamento attento magari a lungo andare sì non sono così pessimista come sai sotto questo punto di vista ma parlando in linea generale nell'immediato premiano chi è d'impatto chi tocca subito gli animi gli impulsi chi fa scatenare odio e amore immediatamente no esattamente come nelle tifoserie esattamente come nello stadio ecco questa cosa sta facendo sta spingendo sempre più rapidamente le chi produce informazione appunto a non fare razio a non fare un ragionamento ma a a toccare solo emotività a esaltare tifoseria e base questo lo fa sia il mainstream ed è evidente a chiunque abbia voglia di vedere la realtà quindi basta accendere una tv è palese che non fanno altro che cavalcare le motività fa caldo e allora subito panico piove e subito poi al panico fa freddo e subito panico cioè è palese che un tentativo continuo di cavalcare le motività assolutamente ovvio e nello stesso momento nel mondo della cosiddetta contro informazione si fa si si porta avanti la stessa procedura uguale ma contraria cioè semplicemente si inverte la politica polarità da una parte c'è il ministero della paura inventato da albanese e dall'altra c'è il contro ministero della paura e sì perché la fine per fare numeri io dico il contrario di quello che dice il mondo mainstream e ho tagliato la testa al toro ottenuto il i miei risultati le mie visualizzazioni cavalcando la notizia del momento i social ti danno visibilità perché sappiamo che funziona così e magari se qualcuno lo sa sappiate non se qualcuno non ne ha conoscenza di questo tipo di processi social funziona in questo modo i social danno priorità all'argomento del momento per tanti motivi e quindi la contro informazione cavalca la notizia del del momento però con polarità opposta facendo così però si crea un problema ma un problema molto grave anzi un danno nella popolazione perché perché fino a quando si tratta soltanto non solo di spettacolo di talk show base in questo modo insomma elementare il problema non si pone tra la popolazione no o comunque è minimo quando invece tutte e due le parti cavalcano questo stile questo stile questo tipo di emotività ebbene si spinge la popolazione a non ragionare più con la testa e solo attifare perché poi la parte razionale per poter funzionare questa è una cosa che viene insegnata sia in quanto meno dei tempi della dello stoicismo della scuola stoica che come sapete la la linea di pensiero lo stile di vita che porta avanti cerco di divulgare il più possibile se tu sei in preda all'emotività al pathos non riesce a ragionare ed è un dato di fatto provate a ragionare quando siete incazzati arrabbiati o ansiosi non ci riuscirete mai per motivi scientifici c'è il risuolo che gira nel cervello e quindi non sia lui esatto che si accende la parte primordiale del cervello e si spegne quella più nuova quella del neocorteccio e così via quindi paradossalmente quello che avevano scoperto un paio di migliaia di anni fa è assolutamente dimostrata anche in maniera scientifica anche se come dire basta l'esperienza di vita per accorgersi che è così quindi tutte queste persone sia dalla parte del mainstream che della controinformazione spingendo le persone a essere solo emotive arrabbiate irrazionali e tifose e basta stanno facendo regredire sempre di più la gente è un dato io lo vedo in maniera molto evidente sono pienamente d'accordo ed è molto grave e anzi ed è bello che già con il vostro canale invece avete deciso di seguire tutt'altra linea e di mantenere la barra dritta sulla linea della razionalità e del buon senso cosa significa tutto questo significa che innanzitutto non sempre x ha ragione y ha torto non è che tutto quello che dice il mainstream è sempre sbagliato tutto quello che dice la controinformazione giusto o viceversa no perché ci sono quelli che invece pensano il contrario che tutto quello che dicono quelli della controinformazione sbagliate il mainstream ha sempre ragione noi dobbiamo invece riportare le persone a ragionare la testa con la testa a ragionare con la testa sulle spalle si diceva un tempo a mantenerla ben fissa sulle spalle e capire invece chi sta facendo un ragionamento razionale e chi no e soprattutto se magari anche all'interno di un ragionamento di una notizia riportata per cavavalcare l'emotività c'è del vero c'è del falso c'è del manipolato ecco è questo che dobbiamo fare l'esempio classico è questo del clima a cui facevi riferimento tu se noi andiamo a guardare i canali il mainstream ti dice che presto moriremo tutti andremo alla fine del mondo e infatti lo vediamo perché sembra veramente noi film apocalittici americani e così via dall'altra parte sentiamo il cosiddetto mondo della controinformazione invece ti dicono no non è vero assolutamente niente tutto normale ora cosa dice il buon senso il buon ci dice che osservando il clima degli ultimi anni è evidente che c'è un cambiamento in qualche cambiamento c'è sbalzi di temperature improvvisi io vi voglio magari quelli già che ecco hanno più o meno la mia età intorno ai 40 o la tua gf grande si ricordano che non era all'ordine del giorno fino a 20 anni fa la tele temperatura sopra i 40 gradi e neanche certi eventi atmosferici neanche certe piogge tropicali piuttosto che varie cose capitava no è non è che io lo ricordo magari c'era la era una giornata capitava saltuariamente insomma era una cosa una situazione diciamo la temperatura normale io ricordo era intorno quando faceva il caldo intorno ai 32 33 34 cioè erano le giornate calde poi poteva capitare per carità il picco perché sicuramente adesso qualcuno dirà io ricordo l'anno in cui il giorno per carità certo però qui stiamo parlando che adesso all'ordine del giorno le temperature sopra le temperature sopra i 40 gradi e capite qualcosa un cambiamento climatico è in corso questo significa che c'è l'apocalisse in corso molto probabilmente no quantomeno non a breve vuol dire che siamo che tutta colpa dell'uomo molto probabilmente nemmeno quello perché per il semplice motivo che se noi andiamo a guardare la storia la storia del mondo i cicli di cambiamenti di temperatura ci sono sempre stati sempre addirittura se non ricordo male non vorrei dire delle sciocchezze però su questo tema perché non è mia materia però sai uno si informa un pochino e cerca di capire in media ogni 10 mila anni 10 12 mila anni ci sono proprio dei cambiamenti climatici talmente radicati che arrivano addirittura le ere glaciali ricordo questa spiegazione delle correnti del golfo in cui dicevano che secondo questa teoria che abbastanza affermata adesso prima di una di un'era glaciale il pianeta si risulta si surriscalda si sciolgono i ghiacciai l'acqua del mare si addolcisce perché perdono il sale a linea questa cosa e cioè si si annappono nel senso diventa più dolce perché giustamente i ghiacciai sono fatti di acqua dolce il mare di acqua salata quindi no diminuisce la quantità di salta insomma per proporzione di acqua e a quel punto si fermano tendono a rallentare sempre di più le correnti del golfo che sono quelle sono proprio queste correnti del golfo che mantengono l'equilibrio della temperatura su pianeta terra diciamo temperatura abitabile comunque o meno stabile sì bene rallentano queste queste correnti del golfo e all'improvviso arriva all'era glaciale ma l'era glaciale sempre se non ricordo male è dovuta proprio al fatto che la temperatura normale della terra per dove è posizionato il pianeta terra nel sistema solare dovrebbe essere di circa 10 15 gradi meno se non sbaglio comunque dovrebbe essere di in media molto più bassa rispetto ad oggi quindi fermandosi queste correnti del golfo riprende la temperatura dettata dalla posizione della terra intorno al sole ecco quindi che rivediamo questa situazione ciclica poi si poi riparte di nuovo tutto da capo e così via ogni 10 mila anni c'è glaciazione scioglimento dei ghiacciai glaciazione e così via e nel in questo arco di tempo ci sono altri sotto cicli dicono no tanto che ad esempio se non sbaglio nel settecento c'è stata una mini era glaciale durante durante un periodo tanto che il fiume di parigi insomma i fiumi del nord ci sono i quadri su cui andavano la gente patinava eccetera o nel medioevo faceva ancora più caldo hanno trovato campi di grano per esempio nel ad altezze considerevoli anche nelle alpi no cosa che adesso sarebbe impossibile poter fare quindi questo cosa ci dice ci dice che che ovvio che ci sono dei cicli cicli grandi e all'interno di questi cicli cicli più piccoli poi bisognerebbe capire se noi siamo quello che stiamo vivendo adesso è un ciclo grande insomma la fase di un ciclo grande o di un sottociclo così via ma questo diciamo è questione di argomento che riguarda gli esperti però a noi insomma può interessa abbastanza in maniera relativa ma per capire tutto questo per dire che in realtà abbiamo a che fare con dei cicli naturali dicono alcuni pure che ha a che fare con le fasi del sole insomma è tutto collegato a livello di cicli di cicli naturali l'uomo ha contribuito a fare qualcosa in tutto questo molto probabilmente una certa percentuale c'è ma non è folle pensare che abbiamo cominciato a cercare di controllare la natura sicuramente abbiamo fatto dei danni ma certo però magari parliamo non so dell'ordine del 5 6 per cento abbiamo contribuito magari un po ad accelerare questo processo però quando per esempio noi pensiamo alla co2 no una volta mi hanno fatto notare questa cosa e mi sembra interessante come osservazione guardate che quando ci sono le eruzioni vulcaniche i periodi di eruzione vulcanica e beh di co2 di anidride carbonica ne esce parecchia fuori quindi pensare che siamo noi che con la nostra co2 all'improvviso abbiamo fatto qualcosa che per migliaia di anni non è mai accaduto è molto presuntuoso e antropocentrico anche no credere che l'uomo sia al centro del mondo forse serve anche per cancellare il fatto che la produzione delle armi dell'industria militare mondiale ma soprattutto dell'industria militare statunitense inquina più di quattro cinque stati insieme quindi ma anche pensa tutto il mondo dell'elettrico per costruire le batterie la chimica che è necessaria e il il silicio bisogna scavare andata io non una cosa sai che ripeto sempre andate a guardare le cave di silicio e guardate quanto dove lavorano i bambini tra l'altro la quantità di acqua che viene utilizzata per creare un cellulare ad esempio impressionante andiamo a guardare queste cose quindi insomma tutto questo per dire cosa che bisogna essere razionale bisogna sempre cercare di guardare in faccia la realtà per quella che questo significa che quelli del mainstream dicono la verità no l'abbiamo detto adesso abbiamo detto che cavalcano gli eventi cavalcano esagerano ognuno ha i suoi interessi purtroppo li manipolano secondo i loro interessi ma questo ma certo ma da qui a dire che non è vero tutto quello che dicono che tutto normale tutto tranquillo è anche quello sbagliato e lo si fa solo per fare da bastione contrario non solo per dire il contrario e ottenere un altro tipo di pubblico ecco a mio parere invece dobbiamo tornare alla razionalità lo sai quello stoicismo è una cosa su cui insisto tantissimo per me è una missione di vita proprio ecco la mia scuola stoica non faccio altro che ripetere tutto questo in continuazione no perché non si tratta di una filosofia di di astratto non ha nulla a che fare con questioni astratte ma è una filosofia di vita ok la porti avanti perché ritieni che aiuti a vivere meglio assolutamente si applicabile nel quotidiano non come qualcosa di di astratto ma per carità ma jeff anzi il il concetto per esempio pure del filosofo di un tempo no non è quello che studia filosofia cioè quello non quello uno studioso di filosofia al piano storico di filosofia ma poi tu puoi essere un bravissimo storico della filosofia che conosci tutte le date tutto quello che vuoi ma non essere un filosofo perché magari nella vita ti comporti non uno schifo no e in realtà il filosofo un tempo era chi amava no la conoscenza pratica della vita cioè come bisogna vivere realmente era l'obiettivo infatti si diceva era raggiungere la virtus quindi la qualità dell'uomo alta quindi chi pratica una filosofia di vita no veniva definito un tempo filosofo ecco e la base di questo concetto è chi agisce razionalmente chi guarda le cose in maniera razionale e chi guarda le cose per come sono realmente oggi invece siamo caduti nel in una visione proprio da setta cioè quindi proprio da setta e ognuno fa parte della propria setta io me ne accorgo quando tu per esempio jeff dici alle persone qualcosa che a loro che loro pensano diversamente da come la pensiamo ci sta assolutamente normale magari possiamo ragionare tutti allo stesso modo avere tutti la stessa opinione su un certo tipo di argomento che bene la gente scatta subito e se anche prima ti apprezzava molto basta un concetto una parola ti fa pezzi sono stronzo non capisci basta un errore basta inciampare basta semplicemente essere pensarla diversamente su un argomento e questo è inquietante perché queste le sette fanno così le persone razionali ragionano dicono perché tu la pensi così qual è il tuo punto di vista secondo me sbagliata magari su questo guarda che forse magari ti sei informato male ma come mai hai questa idea e così via questo è il ragionamento di un uomo maturo adulto altrimenti facciamo come i bambini abbiamo presente tutti i bambini fino a quando li accontenti giochi con loro e sei in linea con loro sei la persona migliore del mondo basta che gli dici di no che non ti va di giocare già ti odiano morte e siamo in queste situazioni non voglio creare polemica ma abbiamo visto a settembre dell'anno scorso che questa modalità viene usata anche nella politica da partiti grandi piccoli da nuovi vecchi è incomprensibile perché appunto è sette uno crea delle sette sempre più ristrette in questo modo ma perché crea perché comodo come accennavo prima cioè tu vai io accendo video comincia a dire sono x uno stronzo è cattivo e questo e quell'altro non c'è tutto in questo modo è ovvio che crea una tifoseria la gente si gasa e stiamo a posto abbiamo risolto il problema delle visualizzazioni però prendiamo di vista i concetti i principi e ciò che è importante ma è lo stesso meccanismo delle droghe pesanti cioè in quel momento ti gasano ti danno ti fanno sentire un dio e poi ti distruggono è la stessa cosa è ovvio che ti gasa sentire quello che ti esalta quello che carica odio e così via ma la lunga ti distrugge è esattamente una droga infatti si parla di dipendenza anche in questo senso perché forse si riesce si arriva a dipendere anche dal fatto che sappiamo che c'è una piccola folla di persone che si aspetta che diciamo qualcosa e quindi la diciamo per ottenere il nostro per autocompiacerci ma certo vizioso tremendo e poi cosa fanno creano divisione poi dicono a questi non capiscono nulla e certo dipende come ti sei rivolto a quella persona io una cosa che racconto spesso durante il periodo insomma della cosiddetta insomma della situazione in cui ci siamo trovati tutti quanti non negli ultimi anni cosa è successo che in tanti mi dicevano ah ho litigato con questo litigato con quel gente che non si è esposta come hanno come noi già pubblicamente in questi anni gente che magari solo parlava con i parenti le famiglie si sono spaccate in due esatto io una cosa che racconto sempre io nonostante sia stato uno lo sai no dal primo momento no mi sono esposto tantissimo su questa cosa pubblicamente dal primo secondo anche quando molti del anche erano ancora silenti sì o non avevano coraggio di prendere posizione o avevano le loro idee chi lo sa cioè io dal primo istante ho iniziato a cercare di ragionare sulla situazione bene jeff è di denunciare certe situazioni guarda jeff credimi io non ho mai litigato con nessuno con nessuno e infatti tanti mi dicevano come fai tu a non litigare con x con y eccetera perché e questo di questo ne abbiamo parlato pure in una diretta insieme a margherita furlana alcune tempo fa e adesso non ricordo in quale giorno preciso però ne abbiamo parlato perché perché il linguaggio è fondamentale dipende tantissimo come dici le cose non solo quello che dici jeff il tono di voce il modo di porti il rispetto che devi avere verso l'altra persona se io già quando parlo con una persona creo nella mia testa l'idea che è uno stupido uno che non capisce nulla eccetera e beh creerò un muro immediatamente senza rendermene conto oppure se insisto con certe parole con certi termini in realtà bisogna ragionare e a imparare a comunicare in maniera adeguata aspettando anche il momento giusto cercando di dire la parola giusta il momento giusto cosa che è sparita completamente un tempo si prestava molto attenzione molta attenzione a questo oggi non più quindi sono tutte cose che noi dobbiamo riprendere velocemente con urgenza cioè con urgenza infatti parliamo tante volte lo sai di cercare di creare dei corsi per insegnare queste cose alle persone perché non basta la buona volontà non basta essere impegnate bisogna imparare rieducarsi da adulti rieducarsi alla ragione rieducarsi al saper vedere le cose come sono realmente a non lasciarsi spaventare e a saper comunicare in maniera adeguata con le persone e avere l'umiltà anche di riconoscere che in certe fasi siamo stati indottrinati anche noi stessi da bambini da studenti eccetera ma vedi queste cose infatti nello stoicismo la prima cosa che viene insegnata sempre no all'allievo diciamo così è impara dominare le tue emozioni che non significa questo tempo importantissima e sciocchezza che purtroppo tante volte viene divulgata dai da docenti universitari o dei libri di filosofia no ti dicono agli stoici comportamento stoico è quello che distrugge l'emotività non è così non la cosa non puoi distruggere l'emotività sei un essere umano significa imparare a controllarle da controllare a viverla dentro noi stessi a gestirle tanto che era talmente chiaro come concetto che gli stoici utilizzavano la parola pathos cioè patire gli eventi esterni tu non devi lasciarsi in sostanza lasciarsi condizionare da ciò che è nel che avviene nel mondo esterno questo non significa eliminare le emozioni ma significa non lasciarsi provocare dal mondo esterno in sostanza devi essere tu a decidere quando come dove agire e magari evidentemente accendere le emozioni in un determinato modo e controllarlo un po come controllare un fuoco no ecco saperlo gestire perché se lo lasci andare distrugge tutto questo è il concetto e quindi è la base perché se tu non impara a gestire le tue emozioni a tenerle ferme quando quando devi tenere sotto controllo spegni la razza spegni la ragione e diventi e in uno stato di bestialità gli antichi chiamavano gli uomini che vivevano di sole emotività i bruti e infatti siamo caduti in un'era di bruti ed è evidente quindi sai anche qui questo tutto questo discorso che si è sempre fatto di esaltare l'emozione quello che è avvenuto negli ultimi decenni ha fatto danni pesanti lo stiamo vedendo oggi cosa che viene cavalcata sia dal mondo della cosiddetta controinformazione ovviamente dal mondo del mainstream deve noi siamo esseri umani essere umani significa essere razionali innanzitutto usare la testa ok quella è la parte principale altrimenti ci disumanizziamo ed è esattamente quello che sta avvenendo e non a caso il potere quando vuole dominare fa spegnere la ragione cioè spinge gli esseri umani a spegnere la ragione e a vivere di emotività di cavalcare l'emotività dove l'emotività più estrema è la paura quindi restiamo umani anche davanti alla propaganda e alle narrative delle elite e restiamo umani anche nonostante il caldo direi ma per chiudere michele tu sei ottimista o pessimista in questo senso perché c'è chi dice che il nuovo mondo a livello umano è già lì che è pronto a a nascere perché in effetti c'è stato davvero un risveglio più o meno profondo ma comunque c'è stato risveglio in un certo senso negli ultimi anni nelle popolazioni mondiali non dico solo quella italiana tu pensi che sia così o che le persone siano ancora molto sedate e obnuglate guarda la maggior parte delle persone sono sedate infatti bisognerebbe cercare anche di parlare di più quelle persone comuni che magari non seguono questi temi ma senza attaccarle c'è solo ascoltarle bisogna ascoltarle e capire e all'improvviso ci si accorge quanto queste persone vivono in un mondo lontanissimo magari da noi che ci informiamo da queste cose non hanno la più pallida idea vivono emotivamente seguono solo istintivamente quello che ti dice la televisione o l'autorità del momento e fine della discussione il problema è che la maggior parte delle persone ragionano si ragiona diciamo vive così quindi io questo risveglio a livello di massa sinceramente jeff non lo vedo se parliamo di un di piccoli gruppi diciamo c'è ecco quel gruppo di persone quella quantità di persone determinato numero di persone che si sono opposte a questa situazione soprattutto degli ultimi anni ecco io direi che si è creato un terreno fertile in quei casi ecco non parlerei di risveglio perché risveglio è un ecco quando capisci che devi innalzare l'uomo ok è ancora non ci siamo esattamente però diciamo si è creato il terreno fertile e sulla terra però su tutto questo bisogna saper coltivare io vedo che questo terreno fertile in questo momento da viene coltivato non male viene coltivato con erbaccia amara eccetera e quindi rischiamo di rovinare quel terreno fertile mentre dobbiamo lavorare per far crescere dei frutti buoni e sani e nutrienti su quel terreno su questo si può fare ecco questo si può fare però bisogna lavorarci sopra in maniera adeguata e lavorare sul linguaggio e sull'ascolto bisogna sapere ascoltare le persone esatto grazie michele ci rivediamo sicuramente a breve grazie arrivederci alla prossima volta grazie a te jeff a presto grazie a tutti per aver seguito e ripeto è il momento di sostenere il nostro canale lo potete fare dalla nostra pagina web www.casadelsole.tv barra sostienici abbonandovi oppure mandandoci un contributo volontario una tantum ci sono varie forme di abbonamento mensile anche come preferite e continuando a restare insieme a noi grazie e arrivederci alla prossima volta